La mattina ha mangiato poco, ci siamo svegliati prestissimo, quando è col nonno? Ci si addormenta alle 9, 9 e mezza e si sveglia alle 7, 6 e mezza, 7 del mattino e si parte senza colazione, non è un negriero, quando lo sapevi tu? Con la colazione si fa subito Non è bello perché noi ci divertiamo, vero ciccio? Diglielo che ci divertiamo Di divertire perché divertite, però la colazione insomma ci vuole Che ci divertiamo, è che lui è un buon colore